Chiesa con la punta e il piede per Alessandro, Alessandro verso Paredes, Paredes mormito da cercare Chiesa, attenzione ma la Juve dos Chiesa, Chiesa e la rete ha segnato la Juve con Danilo, 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 86 in un minuto, il capitano sotto porta, mette in porta, 1-0 per la Juve, Danilo, perfetto, l'uomo della provvidenza, al posto giusto, al momento giusto, la Juve a 4 dal termine, la sblocca, 1-0. Grazie